Extroverso nasce dalla mia esperienza nell'azienda di famiglia e dalla passione per il design e l'arredamento di alta qualità. Mi piace l'idea di valorizzare delle tradizioni locali italiane, in questo caso perché le nostre lavorazioni sono principalmente svolte in Brianza, quindi su un territorio molto conosciuto proprio per la qualità artigiana. Il nome Extroverso condensa proprio tutti i concetti che ci ispirano, quindi l'estro, creativo, la creatività. Partecipando ad eventi e fiere nel mondo intero ci arricchiamo continuamente di nuovi incontri, di nuovi spunti e di nuove sfide che ci permettono di dialogare con designer a livello internazionale e scoprire sempre nuovi progetti e nuove potenzialità dei materiali che utilizziamo e delle nostre lavorazioni artigianali.